we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci chiuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyudea e ragazzi penultima sfida della modalità fai centro in centro una sfida veramente semplicissima che ci chiede semplicemente di ballare nel campo da basket per tutti quelli che ancora non lo sapessero eccolo qua subito a sinistra della prima discesa il campo da basket quindi ci basta semplicemente aprire la porta e scegliere il nostro ballo preferito per farlo e quindi portarci a casa anche questo stile dello skateboard io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video un bel pollicione in su noi ci vediamo in live domani alle 13 ciao